Allora, lezione dedicata alla scuola ionica di Mileto. Vedremo quelli che sono passi dalla storia come i primi tre filosofi, Talete, Anassimandro e poi Anassimene, se ho tempo, spero di riuscire a fare anche il terzo autore, minore rispetto ai primi due. È una scuola estremamente originale, è una scuola che appartiene al primo periodo della filosofia greca, al cosiddetto periodo cosmologico. Ci siamo detti nelle scorse lezioni che nel periodo cosmologico l'indagine filosofica ruota intorno al cosmo, ruota intorno alla ricerca dell'archè, l'archè cioè il principio primo che governa la natura, la realtà, che governa tutte le cose. Alla ricerca dell'archè, potremmo intitolarla questa lezione, i primi autori che vanno alla ricerca, in maniera logica e non mitica soltanto, in maniera razionale, dialogica e logica, del principio primo che guida l'universo, sono appunto gli ionici, i milesi, cioè Talete, Anassimando e Anassime, la scuola ionica di Mileto. Iniziamo. La scuola di Mileto ha appunto sede a Mileto, nell'Anatolia, dunque nella Grecia orientale, cioè nelle colonie greche orientali, siamo nell'attuale Turchia. Mileto è una colonia ricca di commercio, di commercianti, c'è circolazione dunque culturale, circolazione di idee, circolazione anche di uomini intraprendenti e la scuola di cui oggi parliamo non è una scuola nel senso più moderno del termine, non c'è un luogo, una sede, o se potremmo anche dire non è neanche una scuola su modello antico come quella di Platone, l'accademia o il liceo. Parliamo di una scuola nel senso di un maestro con degli allievi, con dei seguaci, gruppi di persone che si ritrovavano e che attraverso l'uso critico della ragione, attraverso l'uso critico della ragione, mosse da curiosità, queste persone mosse da meraviglia iniziano a lavorare dei ragionamenti, delle teorie, delle intuizioni, cercano di dare risposte ai grandi quesiti della vita, ai grandi quesiti intorno alla natura, intorno all'universo. La domanda è qual è il principio, se vi è un principio che regola la natura, che governa il cosmo, cosmo vuol dire ordine, poiché il cosmo è ordinato, cosa vi è la base di questo ordine? Le cose sono ordinate dal ciclo nascita-morte, dall'alternanza del giorno e la notte, dall'alternanza delle stagioni, vi è un ordine nel cosmo. Questo ordine ha una causa, se sì, qual è? La scuola di Mileto si concentrerà nella ricerca del cosmo in una dimensione naturalistica. L'archè sarà l'aria per Talete, Talete sarà la materia caotica, infinita e indefinita per Anassimandro, sarà l'aria per Anassimene. Ma adesso le vediamo tutte queste teorie, solo per darvi una preview, per farvi un'introduzione che poi vi serve per preparare l'interrogazione. Diciamoci una cosa sulle caratteristiche della scuola. Prego. Ma quindi, non è una scuola fisica, non è voi mette a scuola al Giordano Bruno, andate all'università, a Palazzo Nuovo, a Medicina. No, qua non è una scuola nel senso di edificio, istituzione stabile, ben definita, ma è una scuola nel senso di proprio trovarsi un maestro con degli allievi o degli filosofi, intellettuali, pensatori, astronomi, matematici e discutere, dibattito. C'è la centralità della discussione, ragionamento e discussione. ragionamento, logos, discussione, dialogos. Vediamo insieme la scuola di Mileto. La scuola di Mileto è una scuola che ha determinate caratteristiche, innanzitutto una scuola aperta. Ci tengo che voi capiate bene questo aspetto. Una scuola aperta vuol dire che è una scuola a cui si può partecipare liberamente. Servono dei prerequisiti, sì, ma non sono prerequisiti di razza, prerequisiti di censo, prerequisiti dunque legati a una determinata posizione religiosa, ad esempio. Ma i prerequisiti sono l'intuizione, sono la brillantezza intellettuale, sono il tempo libero e dunque un'esclusione c'è. Gli schiavi, i prigionieri non possono far parte di questo circolo filosofico, di questo dibattito filosofico. Dunque, se si è uomini liberi, dotati di curiosità, intelletto, ingegno, certo, se sei stolto e se fatichi a mettere insieme il pranzo con la cena, è chiaro, non avrai il tempo, l'ozium, per poter goderti della piacevolezza della discussione filosofica. Dunque, una scuola aperta con dei limiti, ok? però non c'è nessuno che ti debba fare una sorta di esame di ingresso perché non è una scuola come ne intendiamo a numero chiuso, è una scuola a cui si entra per amicizie, dunque per filia, per conoscenza, ma non in senso di corruzione, hai discorso, hai discusso, ci siamo conosciuti, ci siamo appunto interessati agli stessi temi, entro a far parte di questo gruppo di persone, è chiaro? E soprattutto il sapere è un sapere circolare orizzontale, cosa vuol dire? un sapere circolare vuol dire quello che io conosco, quello che io intuisco, quello che io teorizzo, lo metto in circolo, lo metto nella discussione comune, lo metto a disposizione degli altri, entra in circolo quello che ho intuito, quello che io ho elaborato, e dunque fa parte di un patrimonio di discussione comune, non è un sapere che io poi tengo scuro perché sapere è potere, ricordatelo, io tengo questo sapere all'oscuro, tengo gli altri all'oscuro, lo nascondo, lo faccio derivare da divinità, da poteri maici o religiosi e dunque io orizzontale ve lo faccio calare dall'alto, no, è un sapere orizzontale, o è la morte teorie, la metto in discussione, le metto in discussione, le propongo, le propongo e sono a disposizione di tutti, io ci sono arrivato con il logos, con la ragione, cosa? sapere circolare è orizzontale, cioè non c'è nessuno che dall'alto fa cadere o cala dall'alto al basso questo sapere, il sapere dei sacerdoti, il sapere dei maghi, il sapere dei sapienti di caste è un sapere che dall'alto viene calato verso il basso con quest'idea io illuminato, io mago, io prescelto da Dio, io amato dagli dèi, io che sono in grado di accedere a questo sapere oscuro, ora vi dispenso delle mie conoscenze, ok? Io vi faccio entrare a far parte di questo sapere, vi dono questo sapere, vi offro questo sapere, questo è il contrario della scuola di Mileto, i milesi non hanno un atteggiamento verticale, verticista di sapere sacerdotale, magico, spirituale da santone guru o da detentore oscuro di un sapere che viene dunque calato d'alto al basso, i milesi tengono dunque delle lezioni, svolgono delle lezioni che sono lezioni, discussioni, dibattiti o che sono presentazioni delle loro teorie che poi vengono e discusse, se tu hai delle idee che le hai capite e vuoi contribuire alla discussione, criticare, aumentare, cambiare degli aspetti, puoi, dunque la scuola di Mileto era una scuola aperta, orizzontale, circolare, che non vuol dire che l'autorità del filosofo, del maestro non fosse riconosciuta, perché quando ascoltavi Talete, quando ascoltavi Nassimando, discutevi con Nassimene, gli portavi rispetto, portavi loro profondo rispetto, spesso non avevi mezzi per discutere, spesso non avevi riconoscenze per discutere, si riconosceva la sapienza dell'altro, ma ci tengo a dirlo, anche oggi vuol sapere molto molto per assurdo ancora più circolare, però c'è un problema nella circolarità di oggi, quando soprattutto riversiamo in rete conoscenze, informazioni, opinioni, che spesso non siamo più in grado di distinguere se un'opinione è figlia di un percorso di studio, di ricerca scientificamente fondata, se porta delle fonti di documenti o se è un'opinione di chiacchiericcio del primo che passa, di quello che le esprime e ha la libertà di esprimerla e non sono fautore o sostenitore di quello che dicono basta, la rete è ignoranza, limitiamo, libertà totale, date i limiti della violenza, le leggi, eccetera, eccetera, però l'intelligenza di dire questa cosa l'ha detto un medico, questo non l'ha detto un medio, poi il medico può sbagliare, questa cosa la dice uno studioso di astronomia, questo comincia un astrologo, l'astrologo è quello che ti puoi fare le carte, l'astrologia, ok, l'astronomo è uno che studia il cielo e le stelle, l'astrologo e l'astronomo non sono pari nell'esporre le loro teorie, è chiaro, poi uno può dire ha ragione professore, ma io credo all'astrologia, credo all'oroscopo e invece non credo perché non solo non mi interessa nulla all'astronomia, non è libero di fare quello che vuole, ma quando poi discutiamo saper distinguere se è una teoria astronomica, astrologica, se è una chiacchierata astronomica, io amo le stelle, le guardo con il mio cannocchiale da casa, lo studio sulla mappa, se non va bene e ne parlo o se sono un professore di astronomia all'università, chiaro? Dunque, non è che tutti si portassero al piede di Talete di fronte da Nassimandro e chiacchieravano discutendo in maniera paritetica, ma se erano dotati di capacità intellettive, di curiosità, di ingegno, potevano parlare, è chiaro? Dunque, non è una scuola chiusa setta, come vedremo la prossima lezione dopo l'interagazione, è Pitagora, lo vedremo in antitesi, Pitagora è una scuola setta, si entra, se Pitagora decide, si superano delle prove durissime e quando Pitagora fa lezioni, la faceva addirittura a volte dietro una tenda bianca con la luce che proletta la sua ombra così tutti ascoltavano senza essere distratti dalla sua apparenza fisica, quando Pitagora parlava tutti dovevano ascoltare quello che diceva era vero, è chiaro? Un approccio diverso da Pitagora rispetto a Talete Nassimandro e Nassime, va bene? caratteristiche della scuola e andiamo al primo. Talete è il primo filosofo, o meglio, è quello che la storia della filosofia, gli studi di storia della filosofia considerano il primo filosofo ed è ancora uno dei famosissimi Sette Savi. Le cose che vi dirò oggi, oltre a essere prese dall'Abbagnano Fornero, le ho recuperate, le ho appunto studiate su questo testo, sui presocratici, un testo di testimonianze e frammenti molto 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 ricco, è un testo della La Terza, un classico sui presocratici, ci sono appunto fonti, testimonianze, frammenti su Talete, Nassimando, Nassimone, Orfeo, Esilo, Pitagora, Erachido, Parmedia, Zenone, Empedocle e la versione appunto italiana dell'opera di Hernan Dieels, ok? È un filosofo, studiore di filosofia tedesco che negli anni ha recuperato questa mole immensa di frammenti, edizione italiana e curata da Gabriele Giannantoni, ok? Dunque, per dirvi il discorso prima, da dove prendiamo le cose che dico, ad esempio da questo testo. Talete. Talete è ancora uno dei sette savi, dunque in Talete filosofia, mito, religiosità si mesclano. Le cose di questo di Talete sono in parte testimoniate da molte fonti, in parte sono contraddittorie, in parte forse sono mitiche, perché uno dei sette savi, dei sette sapienti antichi e sui sapienti antichi giravano poi leggende, racconti. Lo sai che Talete ha fatto? Lo sai che Orfeo ha fatto? Dunque Talete è un uomo, un filosofo di cui abbiamo tantissime testimonianze perché la sua fama, la eco della sua teoria, delle sue teorie, della sua vita è rimbombata, la eco lontano anche da da Mineto, dunque un personaggio che diventa in parte mito e leggenda. Alcune cose e poi abbiamo il pensiero. Talete, uno dei sette savi, colui che è riuscito a misurare l'altezza della piramide di Cheope. e i piani di costruzione erano stati perduti, l'altezza non era più conosciuta, si presenterà in Egitto e riuscirà a misurare su richiesta dei sovrani egiziani l'altezza della piramide d'Egitto di Cheope. Proiettando che cosa? L'ombra della piramide sulla sabbia e con ovviamente dei tessuti, dei fili, delle aste riesce a costruire triangoli, forme geometriche e tale, utilizzando tutta una serie di teoremi matematici. E dunque, colui che ha misurato l'altezza della piramide di Cheope, navigatore, ingegnere, si costruiva le navi, sapeva navigare, navigare il Mediterraneo dell'epoca, passando in quelle strette anche isole intorno alla Grecia, il maregeo, il Mediterraneo, non era facile, dunque, ingegnere, matematico, navigatore, marinaio, astronomo, astronomo. Un altro manuale di filosofia di due autori, di due maestri di filosofia, professori di filosofia torinesi, Cambiano e Mori, si intitolato, si intitolato, forse non è più di edizione, le stelle di Talete. Perché Talete ha passato tantissimo tempo nella sua vita ad osservare le stelle, su diventare cieco. Allora, prendi questa immagine, ha osservato le stelle sino a quando invecchia e diventare cieco. Vero o non vero? A me non mi interessa neanche. A me importa che oggi capiate che la filosofia era perseguire anche con curiosità una ricerca fino ad arrivare ad essere cieco, avendo una grande forza di volontà. le stelle di Talete perché passava il tempo a guardare le stelle sino a diventare cieco. Ma ancora per un motivo, il motivo poi più buffo, che lo ha reso immortale anche nell'immaginazione, nell'immaginario, anche nella narrazione, negli episodi. Si racconta che osservando le stelle in pieno giorno, fosse solito anche inciamparsi, cadere. un giorno cadde in un pozzo e le grida furono sentite da una serva di un signore che comunicò l'accaduto e lo salvarono. E l'immagine del filosofo distratto, non usato poi come scusa, io tento volte a casa mia di fare un filo dunque le cose sono disordinate le perdo, non funziona. Però c'è questa modalità di approccio alla vita fatta di distrazioni intellettuali, di pensiero che in Talete trovano conferme in questo episodio. Era talmente rapito dal mirare le stelle che cadde in un pozzo perché non guardava dove mette i piedi ma guardava con i suoi occhi mosse dalla curiosità dell'intelletto le stelle. E' chiaro? Altro episodio che vi racconta qualcosa di Talete. Allora, curioso, matematico, astronomo, marinaio, ingegnere, va bene? Tantissimi episodi e anche un altro che poi chiudo si dice che fosse talmente capace di osservare le stelle che riuscì a prevedere l'eclissi solare del 585. Osservando le stelle, i movimenti, i movimenti, appuntandosi anno dopo anno, riuscì a prevedere con un'approssimazione di alcune settimane l'eclisse di sole. E perché vi racconto questo episodio? Perché intorno alla reazione del popolo voi avete e delle genti avete qualcosa di importante da capire sulla filosofia. La reazione quale fu? Opposta. Genio. Genio. Assoluto. Che mente brillante ha previsto questo. La reazione. Cialtrone, impostore, demoniaco, balordo. E lui, e lui chissà, chissà come ha fatto a dire questo. È la fine del mondo, lui lo sapeva, c'è tutto lo scopo. Alla reazione popolare di repulsione corrisponde anche una reazione invece popolare di stima. Colui che conosce e che sa o tiene stima e fiducia o spesso invidia e non comprensione. E in talette c'è questo. Ha previsto un'eclisse di sole. Prego, Alessandro. 585 585 a.C. E l'ultimo episodio di questo riesce a prevedere una stagione di grande sole, di buon clima. E allora lui la stagione prima compra a poco prezzo due a sede appezzamenti sopra Mineto. Mineto appezzamenti in collina e pianta, fa piantare olivi. Ok? Quei terreni che compra a poco prezzo da lì a poco varranno tantissimi. Per tantissimo perché saranno molto fertili, produrranno tantissime olive che lui venderà e si farà anche tantissimi soldi. La filosofia serve. No, vabbè, al di là della battuta tutti questi episodi li mettete insieme non è che l'orale vi faccio domandare racconta tutte, però non finalizzate chiaramente lo studio non solo per interrogazione serve a voi per capire di chi stiamo parlando di personalità certamente eccezionali geniali dalle dite spesso romanzate leggendarie ma queste leggende vi raccontano molto dell'autore del filosofo e corregite che adesso ho dedicato più tempo alla sua vita che alla sua filosofia perché è semplice. Qual è il principio che governa l'universo la materia la natura il cosmo cosa c'è alla base dell'ordine? L'acqua l'archè per talete è l'acqua e l'acqua è un archè di tipo monista cioè è uno il principio monismo significa mono uno il principio che governa il cosmo è unico uno è l'acqua il monismo è una teoria che sostiene che è la base cioè del cosmo vi è un principio unico l'acqua ma l'acqua come fa a governare il cosmo? La domanda è io vengo qua Giulio e ti dico l'acqua è l'archè del cosmo tu cosa mi chiedi? Perché e lui argomenta con l'argomentazione penso riuscite anche voi tranquillamente a dire perché? Perché senza acqua non ci serve e dal bimbo e dal bimbo che è nel ventre materno una placenta liquido acqua è chiaro? L'acqua è il principio dell'universo perché è fonte di vita come fa a governarlo? Vivendo l'acqua essendo vita dalla vita lo rispiego lo rispiego teoria secondo la quale vi è un elemento vivente il quale vivendo dà la vita porta la vita determina la vita ilozoismo teoria secondo la quale alla base dell'universo vi è una materia vivente che vivendo vivifica un principio bellissimo l'acqua come fonte di vita gli egizi veneravano il coccodrillo perché era il re alla fine l'animale il re del nilo e il nilo era venerato perché senza il nilo non c'era la civiltà non c'era l'acqua non c'era il ciclo vitale veneravano gli egizi alla fine elementi che portavano dentro la vita talete parte da lì prego monismo vuol dire che alla base del cosmo vi è un elemento ed è l'acqua ma questo elemento come governa vivificando il cosmo dunque la teoria di talete se faccio la domanda che tipo di teoria è? è una teoria monista perché l'elemento è uno è una teoria ilozoista perché questo elemento vivendo dà la vita chiaro? Aristotele sempre ce lo dice in questa bella raccolta addurrà un secondo argomento perché l'acqua secondo Aristotele talete avrebbe individuato l'acqua come archè perché l'acqua è substratum l'acqua è ciò che sta sotto e ciò che sta sotto è ciò che regge l'acqua è l'archè perché l'acqua è ciò che stando sotto la terra da forza la terra vivifica la terra sorregge la terra qua c'è un elemento mitico ancora perché per le leggende antiche ma anche per la scorsa volta la teogonia che abbiamo appunto visto insieme gli dei 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 mari oceano teti erano divinità che avevano dato ordine forza al cosmo l'acqua in questo mito leggenda ricopre la terra che sia piatto che sia sferica è ricoperta d'acqua la terra poggia sopra l'acqua molti antichi sono convinti che l'acqua sia ciò che ricopre tutta la terra e la terra in cui noi viviamo su cui noi viviamo sia appoggiata sull'acqua è più importante ciò che sta sopra o ciò che sta sotto sotto perché è ciò che regge dunque l'acqua è il substrato del cosmo bellissimo cioè qua è filosofia poesia mito c'è tutto ancora in talete talete è il logos che fuoriesce dal mitos ma c'è ancora mito nella filosofia di talete c'è ancora mito per questo racconto dell'acqua che sorregge dell'oceano dei titani acquatici che donano la vita non è filosofia razionale è racconto mitico in talete la spiegazione logico-razionale permane che qua quello che voglio che capiate ragazzi che tutte le teorie che sono fermate nel mondo non nascono dall'oggi a domani ci sono novità e permanenze novità e permanenze secondo autore genio assoluto io lo impazzisco per Anassimandro vedete che mi piacerà tantissimo è il co-fondatore della scuola e di poco più giovane di talete dunque non chiamatemelo per favore allievo di talete Anassimandro è di fatto il co-fondatore coetaneo di talete elaboro elaboro una teoria geniale e tutta intuizione lo do per scontato non abbiamo prove scientifiche nell'ottica moderna di Galileo Galilei va bene non sono teorie comprovate laboratorialmente sono teorie che devono provare ad essere logico-razionali intuizione Anassimandro elabora delle teorie che sono delle intuizioni che devono reggere alla logicità alla razionalità non reggere la prova laboratoriale quello è Galileo devono passare migliaia di anni 2000 anni arriveremo a dire una teoria è vera quando la puoi riprodurre quando diventa legge cioè riesce a sopportare sorreggere essere comprovata da prove laboratoriali Anassimandro Anassimandro dicevo è forse il primo proprio naturalista antico naturalista si approccia allo studio filosofico del mondo in maniera naturalistica cioè cerca di capire come funziona la natura quali sono i meccanini di funzionamento della natura e lo fa rimanendo dentro la natura gli dèi in questa teoria non ci sono prova a spiegarsi il mondo senza ricorrere agli dèi la natura la prospettiva è sempre la stessa siamo dentro la scuola cosmologica il tema il cosmo natura l'ordine dell'universo la spiegazione di stampo naturalistico razionale e la teoria e la teoria celeberra dell'aperon aperon vuol dire aperon indefinito indeterminato senza limite senza confine illimitato secondo Nassimandro l'arche è una quantità indefinita caotica di materia da cui deriva tutto l'universo tutto il mondo l'arche lo rispondo due o tre volte per Nassimandro non è più un elemento naturale l'arche è una massa caotica di elementi i quali in eterno scontro tra di essi costituiscono l'aperon l'aperon è la quantità indefinita indeterminata di materia primordiale caotica originaria quale teoria stai pensando al Big Bay chiaramente lui non ha nessun nessuna prospettiva scientifica molto bene sta dicendoci sapete come è nato tutto c'è una quantità di materia indefinita caotica determinata fa degli elementi che si scontrano questa quantità detta apero indefinito attraverso la separazione degli opposti genera i mondi come è nato il mondo in cui noi viviamo come sono nati gli altri pianeti come sono altre stelle dice a Nassimandro in questo caos primordiale gli elementi si scontrano caldo e freddo duro e morbido bene o male terra e acqua il dolce salato tutti gli elementi sia materiali naturali qua c'è un po' di mito sia quelli valoriali bene o male o sensoriali urtandosi scontrandosi fuoriescono da questa massa originaria dall'apero e fuoriuscendo si aggregano e generano i mondi i mondi in cui noi viviamo i pianeti che osserviamo le stelle che miriamo sono il prodotto di una fuoriuscita esplosiva degli opposti da una massa originaria indeterminata e caotica di elementi originari di che stai parlando cioè a Nassimandro c'è questa roba qua ragazzi questo uomo dice è nato così il mondo e i mondi vivono perché sono un aggregato di elementi che si sono separati e si sono uniti e sono uniti in base che cosa? e a Nassimandro dice in maniera armonica perché l'universo è retto da diche dalla giustizia tutto avviene in maniera equa perché c'è la giustizia la giustizia la giustizia e voi direte ma scusatemi ma c'è la morte c'è la vita ecco la giustizia lo so che se io muoio mi dispiace non ci sono più ma qualcuno è nato dunque la giustizia è un equilibrio dove c'è la nascita e la morte in questo momento degli animali stanno morendo altri ne nascono in questo momento nell'universo stelle muoiono stelle nascono nel pianeta Terra c'è la vita e c'è la morte in questo momento addirittura nel nostro mondo c'è una parte di mondo in quei giorni e una parte di mondo in quei notti c'è l'equilibrio l'equilibrio permea tutto l'universo ma l'universo è così generato da della materia che in maniera in definita caotica si separa come opposti in contraposizione e generano i mondi ma questi mondi sono per sempre ripeto guarda queste intuizioni lui guarda il mondo dice un bambino nasce e muore un albero nasce e muore il giorno nasce e muore ma i mondi non saranno per sempre i mondi nascono e i mondi muoiono ed elabora la teoria della deflagrazione cioè i mondi esplodono ragazzi ma vedete cosa vi sto raccontando guardate che il nostro pianeta terra o imploderà o esploderà forse forse esploderà è chiaro le stelle sono quelle che implodono e quelle che esplodono lui non sa nulla di tutto ciò teoria della deflagrazione cioè i mondi deflagrano cioè i mondi muoiono i mondi esplodono i mondi implodono e una volta imploso poiché già qua c'è questa idea di fondo che è un'idea fondamentale per la chimica futura ma poiché il mondo che esplode ma la materia quando esplode dove va? ribla ritorna nella quantità di materia dell'apero perché nulla si crea e nulla si distrugge principale della chimica che c'è già in luce in un genio assoluto come la simandro i mondi muoiono esplodono si decompongono ma la materia ma c'è il buco nero ok? non sparisce neanche nel buco nero la materia è sparita gli elementi che componevano i mondi ritorna nell'apero dunque i mondi nascono e muoiono quanti sono? infiniti infiniti nel tempo nascono e muoiono nascono e muoiono una teoria ciclica temporale sta immaginando ma se la materia è indefinitivamente tanta quanti saranno nello spazio? infiniti è un primo teorico lo diciamo sottovoce perché all'epoca era scandaloso lo stava anche tutto il medioevo è un teorico dell'infinito o comunque inserisce l'indeterminato in un mondo ancora oggi in cui l'indeterminato e l'infinito fanno paura noi viviamo in un mondo che è chiuso pensiamo non è così in una vita che è chiusa non è così perché c'è un ciclo vitale quello che ci compone rientrerà nel ciclo vitale uscite dalla mentalità o religiosa o di altre prospettive più 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 recenti o più antiche utilizzate di capire cosa ci dice tutto è fatto di questi elementi che si aggregano si disgregano quando si disgregano nell'apero nell'apero ricompongono nuovi mondi dunque noi siamo aggregati di elementi e portiamo sempre con noi elementi del passato è chiaro? dunque l'armonia non è nella singola situazione ma è nella ciclicità Anassimandro è un teorico dei mondi infiniti del tempo infiniti del spazio e di un tempo ciclico prima di dirvi una cosa è molto semplice di Anassim però devo dire ancora secondo me il suo colpo geniale finale a un certo punto avranno detto che cosa avranno chiesto che cosa Anassimandro i mondi nascono così va bene cos'è che possiamo chiederci che cosa nasce qual è altra curiosità in questo mondo i mondi nascono così dove sono uno spazio l'uomo il perché viviamo adesso è una domanda di altri periodi filosofici i primi si interrogano più sulla natura da dove deriva l'uomo guarda questa domanda quel uomo geniale che nell'ottocento va a lega la pago Charles Darwin è la domanda che si porta con sé da dove deriva l'uomo Anassimandro qualche milione prima ci prova e la butta giù in maniera assolutamente ardita e Charles Darwin si avvicina è un proto evoluzionista quando nessuno osi immaginare quello lui un po' per un po' per racconto non perché uno scienziato ma perché la mentalità naturalistica un po' perché la racconta elabora una teoria proto-evoluzionistica alla domanda da dove deriva l'uomo lui risponde prende il maestro la vita si sarà formata nell'acqua a cominci talete la vita nasce nell'acqua dunque la vita sarà nata nell'acqua e nell'acqua saranno nati i pesci non pensa all'organismo monacellulare i pesci e i pesci evolvendosi si sono fatti anfibi e l'anfibio uomo se lo potrò immaginare non so l'evoluzione del nostro mi tiri giù qua a baraccopoli grazie allora sapete che il cinema è in modo particolare il cinema di fantascienza ci può sempre offrire delle intuizioni il cinema dell'orrore e il cinema della fantascienza che sono i due generi di cinema che maggiormente amo ci possono presentare sempre delle teorie o delle intuizioni molto libere perché il cinema dell'orrore e la fantascienza ha dei canoni poco rigidi da rispettare e allora spesso nell'orrore e nella fantascienza troviamo mescolati nel divertimento delle intuizioni sull'uomo sul futuro questo è il celeberrimo mostro della laguna nera fin dall'universo il piccio di fine anni 30 allora potrei immaginare che Anassimandro ha ipotizzato che dal pesce anfibio dall'anfibio questo mostro peshoide l'uomo lasciate perdere adesso il mostro della laguna chiudiamo con lui lui ha teorizzato l'evoluzionismo non c'è un dio che ha creato ad immagini e somiglianza all'uomo bellissimo racconto denso pregnante ma tutto sommato facile immagino un dio e questo dio mi assomiglia io somiglio a lui no lui osa dire gli uomini derivano da un'evoluzione naturale quale pesce pesce anfibio anfibio uomo l'uomo pesce prima dell'uomo che noi siamo chiaro? prego Alessandro altra cosa per chiudere Anassimene che è invece più giovane Anassimene è più giovane Anassimene dunque Anassimene c'è il dibattito Anassimene Anassimene ma è l'Anassimene Anassimene è allievo di Talete e dunque di Anassimandro è il più giovane dei tre diciamo autori della scuola di Mileto e sostiene che cosa? sostiene che l'archè sia l'aria siamo di nuovo in presenza di un monismo l'archè unico mono sembra di un elemento che vivendo l'aria vivifica però attenzione l'aria l'aria ha la caratteristica di essere un elemento naturale come l'acqua ma l'aria che caratteristica ha dell'aperon? è indefinita dunque l'aria prende da Talete l'essere un elemento naturale e da Anassimandro l'essere indefinito indeterminata come l'apero l'aria elemento naturale indefinito è ciò che governa il cosmo perché? due argomentazioni la prima come quella di Talete perché l'aria è vita senza aria non c'è vita dunque l'aria come fonte di vita secondo argomento perché dall'aria derivano gli altri elementi come perché dall'aria pensate che è un protofisico sono pazzeschi questi autori perché dall'aria per rarefazione nasce e deriva il fuoco e perché dall'aria per condensazione nasce deriva si formano l'acqua e la terra dunque l'aria genera il fuoco per rarefazione l'aria genera per condensazione la pioggia l'acqua il ghiaccio e poi la terra rarefazione aria fuoco condensazione aria acqua terra e a cosa possiamo dunque far assomigliare l'universo l'aria lo permea l'universo dunque cos'è? una buona l'universo l'universo è un grande animale che respira questa immagine mitica vi aiuta ancora di più a comprendere come la filosofia affondi le radici nel mito ma progressivamente con un uso critico anche spregiudicato della ragione ne diventerà autonoma l'universo